Parla tifo azzurra, scrive al TG Napoli e attiva la campagna per non perderla in prima persona e l'ultima notizia dal Napoli. Ozymane spunta a tutte le caselle. Lo United, scrive la stampa del Manchester, effettuerà un sondaggio a gennaio, consapevole che sarà quasi impossibile per il Napoli separarsi da uno dei protagonisti di una stagione finora straordinaria. In estate la situazione potrebbe essere diversa, soprattutto se la trattativa con De Laurentiis riparte dai 100 milioni di euro di cui parlavamo l'estate scorsa. Farà un sondaggio già a gennaio, consapevole che sarà quasi impossibile per il Napoli separarsi da uno dei protagonisti di una stagione finora straordinaria. In estate la situazione potrebbe essere diversa, soprattutto se la trattativa con De Laurentiis riparte dai 100 milioni di euro di cui parlavamo l'estate scorsa. Farà un sondaggio già a gennaio, consapevole che sarà quasi impossibile per il Napoli separarsi da uno dei protagonisti di una stagione finora straordinaria. In estate la situazione potrebbe essere diversa, soprattutto se la trattativa con De Laurentiis riparte dai 100 milioni di euro di cui parlavamo l'estate scorsa. Ehi, fan di Azzurra! Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.